Questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dalla riete. Conoscerete persone nuove e finalmente avrete l'opportunità di costruire un solido rapporto di amicizia vera con qualcuno capace di ascoltare le vostre confidenze. Venti di gloria soffieranno per molti di voi in campo professionale. Toro, le stelle regalano un crescendo di dolce espansività, una fase di grande comunicativa, creatività ed equilibrio interiore. Se siete soli non lo rimarrete a lungo. Serata appassionata per chi è in coppia. Gemelli, tutte le questioni poco chiare avranno finalmente le ore contate. In questa giornata qualcuno potrebbe assumere nei vostri riguardi un comportamento scorretto oppure potreste rimanere delusi dal partner sentimentale per una bugia. Cancro, è bello lasciarsi trascinare dagli entusiasmi, basta non perdere di vista certe precauzioni. Frizzanti e comunicativi avrete occasioni per divertirvi e fare nuove conoscenze. Leone, state attenti a non ortare i sentimenti altrui. Inoltre, non intraprendete nulla che non offra garanzie. Se vi sono divergenze di opinione con i vostri familiari, è inutile insistere più di tanto. Non riuscirete a far cambiare idea a chi non la pensa come voi. Vergine, siete vivaci, vi sentite in gran forma e ottimisti. Tirate fuori dal cassetto non solo i sogni, ma soprattutto i progetti che avevate accantonato per scarsa fiducia. Bilancia, sarete curiosi e aperti a tutte le novità. Se siete soli, coltivate una bella amicizia che comincia a prendere posto nella vostra vita e che offre momenti di profonda sintonia emotiva. Scorpione, talvolta bisogna fare delle scelte e decidere che cosa è prioritario. Non disperdetela in inutili confronti, ma applicatela nelle cose pratiche e otterrete buoni risultati. Sagittario, le stelle di oggi buttano qualche ombra sulla sfera sentimentale di molti di voi. Tuttavia si tratterrà per lo più di problemi assolutamente immaginari, partoriti dalle vostre paure e da un'inconfessata insicurezza interiore. Capricorno, una buona occasione professionale va colta al volo. Fidatevi del vostro intuito e della proposta che qualcuno vi farà. Lavoro a parte, non mancheranno neppure inviti e proposte per la giornata da dividere con le persone a voi care. Acquario, questo venerdì inizia con un po' di nervosismo. Per questo motivo mantenere la calma di fronte a certe situazioni non sarà facile. Sarete nervosi e irascibili e i rapporti con le persone vicine potrebbero risentirne. Pesci, le buone occasioni non vi mancheranno in questa giornata, specie per quanto riguarda la voce denaro e guadagni. Potrete mettere a profitto la vostra inventiva, la vostra simpatia e la vostra capacità di comunicare. Grazie a tutti.